Da gennaio 2024 cambia il format della Supercoppa italiana, il trofeo verrà assegnato con una nuova formula che ricalca il modello spagnolo, ovvero l'introduzione delle Final Four. Alla nuova competizione parteciperanno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due del campionato. Se una delle finaliste terminerà la stagione tra le prime due posizioni, verrà ripescata la terza classificata. Una decisione assunta dopo una sofferente assemblea di Lega, dove ci sono stati molti scontri fino a trovare la quadra intorno a questo nuovo format che dovrebbe portare ulteriori risorse al campionato italiano. L'obiettivo è quello di portare circa 23 milioni di euro nelle casse dei club che vi parteciperanno, cercando risorse tra l'IPA TV e gli investitori arabi. Infatti la competizione verrà giocata per i primi due anni proprio in Arabia Saudita per poi ritornarci dopo altri due anni di stop dove la competizione dovrà trovare nuovi stakeholder. Una decisione che fa storcere il naso a molti presidenti, tra cui Aurelio De Laurentiis, preoccupati per il nuovo format in vista anche della nuova Champions League, che a partire dal 2024-2025 vedrà prodare la nuova competizione con un numero di partite maggiore. A questo va aggiunto il nuovo format del Mondiale per Club, che vedrà 32 squadre partecipare da tutto il mondo, con particolare rievo per le formazioni europee. Un calendario che diventa sempre più fitto, nella quale dovrà essere segnita la nuova competizione varata dall'Assemblea di Lega A.